Ecco Mirco Angeli, a che punto siamo con gli aiuti e le stalle per gli allevatori? Qui noi siamo visti un mese fa, 40 giorni non sono, praticamente non è cambiato quasi nulla, qui grandi promesse, grandi qua, ma le stalle a parte una che poi non è stata finita ma non è stata consegnata, non ci stanno stalle, qui ancora rimette previsioni che ritornano un'altra volta a tempo cattivo, ma se continuare questo passo è inutile, ma neanche per il prossimo inverno. Qui noi siamo gente di montagna, siamo duri, vogliamo restare qui perché tutti questi bei passaggi che ci vede qui intorno non è che sono venuti naturalmente, questo è il lavoro di anni e di anni di uomini, di pastori, di animali che sono stati qui. Questa non so se è una volontà di carciarci via di quello di cosa fare. Qui le stalle, praticamente noi già dal 2 novembre c'erano persone che c'erano predisposte e potevamo montare le stalle, loro ci hanno detto no fermi che facciamo tutto noi, facciamo a oggi in tutti questi risultati. Oggi hanno cambiato un'altra ditta, ma purtroppo oggi sono 5 mesi e mezzo dal primo sisma e non si vede niente, non si vede case, ma se non era per la nostra volontà, per il nostro impegno che noi mettiamo a arrangiarsi quello e quell'altro abbiamo cercato di aiutarci uno con un altro, qui sarebbero... ci sarebbe stata una strage di animali. Noi stiamo rimettendo gli animali dentro a stalli inagibili, come me, ma molti, ci sono molti allevatori che stanno messi molto peggio, ci siamo aiutati, abbiamo fatto, ma se loro a novembre ci avrebbero detto cercate di arraggiarmi come potete, noi tutta questa moria di animali non ci sarebbe stata. Poi per fortuna che dobbiamo ringraziare, c'è stata molta solidarietà da molte persone, da tutte le parti d'Italia, ma secondo voi, se alcuni agricoltori sono venuti da Mandova con i trattori fino a qui per portarci aiuto, che quattro agricoltori semplici, ti pare che è una grande istituzione come ci abbiamo noi l'Italia, non gliela fa a montarci quattro baracche per dormire e per mettere a ripare i nostri animali, la nostra vita, noi abbiamo una dignità, forse stiamo perdendo pure quella. Siamo gente di montagna, siamo abituati a soffrire, ma non essere resi per il culo. Dopo, oltre alle stelle, per voi erano previsti anche dei contributi, a che punto sono? Tanti promesse, grandi qua, da tutti, dalla regione, da quelli che si avrebbero arrivati, perché a noi c'è stavano i soldi in anticipo per il decreto veloce per farci arrivare i soldi, a oggi sono arrivati meno soldi degli anni passati praticamente, cioè i soldi che noi ci aspettavano, che loro hanno promesse, ancora noi non abbiamo visto un euro. Lei ha parlato prima di perdite gli animali, ci sono state tante, quelle che soffrono più di tutte la neve a livello di grandi animali, sono le mucche che, come sappiamo, non soffruiscono della neve come acqua rispetto a cavalli. Sì, mucche e pecore, praticamente, per le mucche e pecore la neve non è... il freddo è micidiale, praticamente, anche perché noi qui c'è un altro problema, che molti allevatori in questi giorni stanno nascendo gli agnelli per Pasqua, e con queste, se rimette, speriamo, ringraziamo che il Signore non ci mandi più la neve, ma se ci rimanda un freddo come quell'altro, la maggior parte degli agnelli faranno una brucia. E le intemperie hanno messo a rischio, anzi, hanno devastato anche le recinzioni? Sì, le recinzioni che noi c'èvamo fuori per gli animali, queste sono quasi cadute, perché qui è affatto quasi due metri di neve. A recuperare gli animali com'è? Sì, qui a molti allevatori c'è un animale, perché provvisoriamente noi abbiamo trovato tettoglie o qualcosa con dei recinti che entravano e potessero riparare. Adesso, purtroppo, è cascata giù pure le recinzioni e gli animali sono scappati, sono andati in giro. Adesso stiamo pure ricorrendo, molti stanno recuperando gli animali che sono scappati dai recinti. Intanto la terra continua a tremare, oltre alla paura ci sono anche ulteriori danni. Sì, qui la terra purtroppo non si è mai fermata, qui stiamo forse su una piccola faglia più minore, la terra, anche questa notte c'è stata una di 3,7, proprio qui dietro a noi, ce l'abbiamo proprio a 500 metri da dove stiamo adesso noi. Qui continua ancora a tremare, ulteriori crolli, noi stiamo dentro delle stalle che ogni tanto, mentre sta lì dentro, quando che è casca, in cui mettiamo pure gli animali a rischio del crollo di nuove stalle. Diciamo che non è che è cambiato molto rispetto all'inizio dell'inverno. Certo, il tempo un pochettino è migliorato, siamo riusciti a organizzarci un po', abbiamo messo questo telone con questa rete di protezione sulla vecchia stalla inagibile e piano piano stiamo sistemando un po' gli animali per conto nostro. Tutto sommato cominciamo a vedere un po' di riuscire a organizzarci. La neve è purtroppo a trovarsi in una situazione di tante strutture pericolanti, per cui ci sono stati i crolli, ci sono stati parecchi problemi. Però la neve l'avevamo forse già calcolata, purtroppo il terremoto no. Secondo me ormai c'è poco da dire, i ritardi ormai sono evidenti, ormai è quasi superfluo il discorso della regione, visto che ormai non si sono fatti vivi, ormai le polemiche le abbiamo fatte mille, ormai il danno è stato fatto. Mi piacerebbe che da adesso un po' si cominciasse veramente a fare, sia da parte della regione, sia da parte nostra, da parte di tutti, perché adesso chi ha sbagliato ha sbagliato, come è andata andata, però insomma sognerebbe cominciare a darsi da fare. Noi è inagibile tutto, casa purtroppo è proprio crollata, le stalle sono inagibili, sono rotti i tetti, i magazzini, insomma tutto. La solidarietà è stata quasi esagerata, nel senso che si sono morse da tutte le parti d'Italia, addirittura in maniera anche simbolica, per esempio sono uno degli allevatori di Mantua, sono partiti con i trattori per venire giù a portarci aiuti, insomma un bel impegno, forse bisognerebbe riflettere su questo, se un gruppo di persone riesce a organizzarsi e a venire giù a portaiuti qualcosina in più si poteva fare, insomma a livello istituzionale, ecco, secondo me. Ripeto, basta fare tante polemiche, però ci si poteva svegliare forse un pochettino prima. Ecco, a questo punto cosa vorrebbe dire ai politici? Guarda, noi e i nostri politici ormai non siamo più manco arrabbiati con loro perché abbiamo superato pure questa fase. Io gli chiedo di molto cuore, eccoci molto apertamente, molto esplicitamente, non venite a fare la solita passarella di un'ora, a mangiare al buffet e tutti vi fanno bravo, venite qui con noi a vivere una settimana, nelle nostre condizioni a lavorare con noi. Poi da soli vi renderete conto se avete fatto un ottimo lavoro oppure quello che avete fatto, deciderete da soli. Poi un'altra cosa, molta pubblicità, qui abbiamo fatto gli spot a basso costo, pure a Sanremo per qui, ma non c'è solo il Pesarese o la Costa, ci abbiamo molte cose qui, abbiamo un panorama stupendo e abbiamo bisogno di ripartire. Ricordatevi pure di noi.